Un messaggio a Fiano. Perché non fai un commento? Perché non dici una parola? Perché non ti indigni di fronte a quello che è successo ieri? La RAI, Servizio Pubblico, hanno profanato un luogo sacro, la cripta di famiglia, il cimitero, luogo sacro per tutti. Sono andati giù, dove riposano i miei cari, hanno messo i gomiti sulle tombe come fossimo al bancone di un macellaio. Hanno messo i cavi, hanno messo le luci, sono andati a leggere i messaggi che noi famiglia andiamo a dare, le riflessioni, i messaggi di affetto, di amore nei confronti di papà, dei miei cari, dei miei zii, di mio nonno, violando, profanando questo luogo. Questa non è violenza, forse è quello che volete, forse è quello che vuoi tu con la tua legge. Volete seminare odio? E odio avrete.